Be cool and let the fire take you Sognare si può La radio con un cuore intorno Sognare si può E non è peccato Sognare si può Anzi devi Se ci credi ogni sogno diventa realtà Le rubriche divana posti Stasera che sera Restare tutto il tempo con te Di notte l'amore, l'amore È sempre una sorpresa per me Puoi respirare il profumo del mare Mentre dal vento tu ti lasci colare Fare il signore, il rumindicante Non scordarsi mai però di essere anche amante Stasera che sera Stare tutto il tempo con te Di notte l'amore, l'amore È sempre una sorpresa per me E aduggere il sole nelle mie mani Togliergli raggi come un albero cami Per circondare il tuo viso in calore Come sta un pescato intorno a su fiore E aduggere il tuo viso in calore L'angeli del nostro gioco, sozi d'amore ma contenti di poco, chiedere all'aria i suoi tesori, e così non chiuso puoi sentirti sempre fuori. Stasera, di notte l'amore, fare il conteggio dei giorni passati, sapere adesso che non sono sciupati, perché tu sei sempre viva e presente, ora come allora tu sei mia nella mia mente. La 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 sognare si può buongiorno ciao come va? che piacere che tu non sei il piacere che ho nel rivederti finalmente posso rivederti dal vivo ah ma che bella cosa Antonio grazie è vero ti ricordi io mi ricordo mi ricordo molto bene ed era stato un altro bellissimo momento in vostra compagnia sì ma anche noi ci eravamo insomma ci eravamo divertiti ma nel frattempo è successa la qualunque è successo di ogni allora sognare si può brava oggi ospita eh? il teatro abitato e voilà e siamo noi parte siamo noi ma il teatro abitato che hai battezzato guarda che presenta stasera che sera allora il teatro abitato come faccio a raccontare vai 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 allora intanto parliamo di chi sono i primi ma chi esatto i fondatori del teatro abitato quattro elementi quattro elementi eh da dove comincio da Teobaldo che è uno allora iniziamo a parlare di quelli che non ci sono così che non si possono arrabbiare ecco molto bene tu immaginati un cantante lirico e di operetta che è già eh un bambino prodigio perché eh noi non ce lo ricordiamo ma lui esordisce esibendosi nelle trasmissioni di di Mike Buongiorno eh e quindi stiamo parlando insomma di una carriera molto molto lunga che si perde perché appunto inizia da bambino poi cosa succede non si sa si sa che lui come eh l'eroe di Baricco il pianista sull'oceano sale su una nave da crociera tac ci resta degli anni perché poi lui sparisce non vuole scendere per i mari così ma a un certo punto non si sa perché lui scende e lì chi ti incontra incontra noi che lo prendiamo per i capelli e gli diciamo adesso ti facciamo vivere noi un'avventura ti imbarchiamo in una nuova nave ti imbarchiamo in un'avventura molto più insomma burrascose e già lì eh poi andatevi a vedere chi è insomma se avete voglia devo dire che Teobaldo è anche mio carissimo amico abbiamo fatto tantissime cose insieme dopo che è sceso dalla nave ovviamente non è stato subito imbarcato nel teatro abitato abbiamo fatto tante cose operetta canzoni per la guerra cose per fare la guerra cose tragiche insomma è veramente stato un personaggio con cui abbiamo calcato molti spettacoli molti palchi in giro per l'Italia e wow beh però anche io e te abbiamo adesso parlo di lui sì che purtroppo è presente per cui dirò le cose che si possono dire e poi se mi chiamate vi racconto il resto allora lui è è un attore è un regista è uno scrittore ma la cosa carina di lui è che ma lui chi è? lui è Antonio Valleggi è lui chi è? Antonio Valleggi ma adesso vi faccio piccolo adesso questa la dico hai presente Alfredicco che si infilava nei film soprattutto per la pancia questo è vero ecco no a parte quello lui fa la stessa roba con le cene con delitto perché lui è l'autore lo so diciamolo diciamolo con delitto dell'ispettore Turbion adesso lo sapete se volete venirmi a picchiare no a proposito salutiamo Riccardo che è l'ispettore Turbion ma ciao Ricchi ciao Riccardo Pellegrini sei sempre più grande meraviglioso meraviglioso Ricchi noi lo salutiamo è vero quanto mi manca è un po' che non lo vedo e allora insomma allora io lì lo conosco e cominciamo io non so bontà sua mi vuole in un suo spettacolo e andiamo avanti a lavorare insieme su di me saltiamo che sono qua poi arrivo io e poi e poi il quarto elemento il quarto elemento è Omar Zarino che è un personaggio anche lui un po' strano tra le altre cose il mio compagno però non pensare a una roba tipo Albano e Romina Power perché non c'entriamo niente non c'entriamo niente tra le altre robe lui è l'anima dei turisti allo sbaraglio wow ma tu l'hai visto quello che va in giro su una vecchia panda blu con una scritta gialla con le antenne delle radio e dietro una rullotta ancora più vecchia ecco una scarpiera perché la panda poi lo riesce a tirare e quindi noi più o meno ci siamo attentati e quindi hai imbarcato anche lui abbiamo imbarcato anche lui perché perché il teatro abitato perché 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 noi abbiamo visto sto teatro e abbiamo pensato che insomma bisognava farlo vivere perché questo teatro doveva essere abitato 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 da chi sì Olga ma io c'ho maledetto perfetto stavamo salutando ricchi pellegrini perché hai fatto una un accenno al fatto che di cosa è responsabile questo nostro Antonio Valleggi io sono responsabile di tantissime cose e anche colpevole e confesso tutte le mie colpe proprio tutte sono responsabile e io sono l'autore delle storie di invito a cena con delitto dell'ispettore Turbion l'ispettore Turbion sappiamo credo tutti che è interpretato da Riccardo Telegri per cui ebbene sì ebbene sì e attraverso tanto tanta collaborazione con Riccardo Pellegrini appunto abbiamo incontrato Olga Cristina Manca questa attrice che vagava alla ricerca di una nave e quindi gli abbiamo proposto anni fa un progetto che era uno sconosciuto con mia moglie una commedia che abbiamo portato in scena insieme a Renato Lipran del Marins di Camera di Caffè e da lì diciamo che abbiamo iniziato a navigare non solo con le cene con delitto ma anche nei teatri cercando di poter rappresentare non solo lo spettacolo ma di aprire anche dei progetti nuovi sui territori perché questo poi indefinitiva quello che noi abbiamo fatto che io ho sempre fatto insomma da sempre da sempre e poi abbiamo trovato quel teatro ah sì voi sapete che le donne quando vedono una cosa che gli piace la vogliono per cui Olga si è innamorata non è che la vogliono lo vogliono il teatro sta lì voglio mi sono innamorata di questo teatro bellissimo che poteva prestarsi e si presterà a molteplici usi e abbiamo pensato proprio di fare l'associazione per la programmazione di questo teatro che è il teatro civico di Trino il teatro civico di Trino ma senti una cosa ma io ti voglio domandare questo il teatro abitato eh beh ma il teatro abitato nasce forse da dai miei disordini neurologici perché quando l'ho visto io l'ho immaginato abitato abitato da tutti i personaggi che avrebbero avuto la possibilità di vivere in quel teatro ma che meraviglia magari Pirandello che passa autori ma non solo pensato ma perché anche i personaggi i personaggi ma il pubblico quel teatro deve essere abitato eh io l'ho visto così e voglio che sia così d'altra parte il teatro nasce come condivisione per cui deve essere abitato dal territorio dalle persone che vivono intorno a questo teatro il teatro è una grande tenda che accoglie sotto le sue braccia il territorio le persone del territorio chi svolge dei progetti nel territorio e si rafforta con le forze positive e ne abbiamo trovate tante per cui e ne abbiamo trovate tante abbiamo trovato degli interlocutori nell'amministrazione ma soprattutto abbiamo trovato degli interlocutori nel territorio noi siamo partiti in quattro e siamo già di più perché abbiamo incontrato delle persone che volevano fare delle cose infatti quello spazio bellissimo si presta a molti usi non solo quello teatrale in senso stretto ci si può fare musica cinema mi senti così si possono fare corsi si possono fare cosa lei mi fa dei gesti che mi dice girata verso il microfono così così ok grazie rispettiamo le distanze un metro sembra lo so che sembra giochi senza frontiere lo so in più oggi anche facebook ci ha fatto pure il il dispetto che ha cominciato a fare così e le cascate oggi ha deciso di fare un po' di capricci e quindi insomma dove ero rimasta io parlavo di questo teatro stiamo lavorando a moltissime cose per cui vi chiediamo anche di seguirci se vi va di andare a vedere sulla nostra pagina facebook il teatro abitato assolutamente sì magari metteteci anche un like mentre andate a vedere così facciamo crescere questa pagina grazie e nel frattempo mentre perfezioneremo il nostro accesso in questo teatro ci siamo dedicati proprio sul territorio alla realizzazione di una piccola stagione estiva con eventi non strettamente teatrali ma cabarettistici e musicali che è andato per ripartire per dire da dove per ripartire che dici Antonio racconti tu qualcosa come cominciamo sì tanto per ripartire che abbiamo proprio bisogno di questa ripartenza dicevo brevemente che il teatro è condivisione ed è coesione di persone cosa cosa è meglio che fare degli spettacoli all'aperto dove si può godere il fresco della serata e godere della buona musica o delle risate quindi al palazzo paleologo di Trino che è un bel edificio storico di questo comune nel suo cortile abbiamo approntato cinque appuntamenti il primo parte adesso il 31 luglio con un divertentissimo Francesco Damiano e con il suo spettacolo nuovo Scusate se esisto Scusate se esisto già tutto un poema questo però possono anche andare prima gli spettatori possono anche incontrarlo prima volendo sì questa è la novità se vogliamo di stasera che sera che è il titolo della rassegna noi abbiamo insieme alla collaborazione preziosissima di Ivana Post e della sua radio Sognare si può abbiamo approntato tutte le sere quando c'è il nostro spettacolo prima dell'esebizione degli artisti gli artisti stessi incontrano il pubblico in una chiacchierata amichevole si presentano raccontano di sé presentati dalla nostra cara amica Ivana Posti è una piccola novità crediamo che l'artista deve soprattutto adesso non essere solo su un palco ma deve un po' rompere questa quarta parete e avvicinarsi al pubblico spiegando che dietro a uno spettacolo c'è tanta umanità c'è tanto lavoro ma c'è anche tanta anima da parte dell'artista tutto sommato sognare si può l'artista cosa fa? Cosa fa? Esatto sognare si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Del programma, allora dicevamo, adesso raccogliamo un attimo le idee, no? E dicevamo che questo progetto è un progetto di rinascita, di ripartenza, dopo un momento un pochino critico per tutti, no? E' stato complicato. Finalmente l'arte riparte. L'arte riparte con il teatro abitato in cui Olga ha visto delle cose. Ha visto i personaggi già muoversi. Che abitavano questo teatro. E quindi li ha resi praticamente reali perché in realtà ha creato tutto questo mescolamento insieme con tutti voi che avete reso questo possibile. Perché in realtà poi ci vuole, come dire, no? Del lavoro. Eh sì, ci vuole tanto lavoro e soprattutto, come ha detto giustamente Olga prima, ci vuole anche l'appoggio di tanta gente. Che sono l'amministrazione di Trino, che sono i giovani che abbiamo incontrato, con cui faremo sicuramente dei progetti. E speriamo che l'appoggio della cittadinanza, del territorio, ecco, che è più giusto usare questo termine, del territorio che le persone vengono ad abitare il teatro civico di Trino. Il loro teatro. Meraviglioso. Brava, Olga. Che il teatro non è di chi lo gestisce o di chi ci lavora. Il teatro è del territorio e delle persone. Assolutamente. Questa è la grande forza di questa operazione, dello spettacolo live, ecco. E questo è vero. Tra l'altro voglio salutare Marta che era insieme con Ricky l'altra sera a fare lo spettacolo. Marta Barzotto. Ciao, come stai? Che ci manda un saluto e che risalutiamo. Grazie. E naturalmente saluto anche tutte le persone che erano collegate con la diretta di prima, che adesso io ovviamente con quest'altra diretta non vedo più, ma noi li salutiamo tanto, tanto, tanto. Ciao, ciao, grazie a di averci seguiti. Continuate, eh? Sì, sì, state lì, non vi muovete, tornate, che io faccio le finte, oggi va così, che abbiate pazienza. Cosa volevo dire? A questo punto mi piace parlare con voi di questo programma. Certo. Eh? Stasera che sera. Stasera. Stavamo dicendo, poi vi ho interrotto sui siti. Bello, ho detto mettiamo la musica, sono dispettosa. E stavamo dicendo che si parte con il 31 di luglio. Certo. Con Francesco Damiano. Francesco Damiano è un cabarettista che già ha una certa esperienza, ha lavorato con la Cortellesi, con Visio su Zelig e presenta un suo nuovo spettacolo che è Scusate se esisto. E noi lo perdoniamo. Scusate. E sarebbe carino per chi vuole partecipare e assistere a questo spettacolo venire prima a incontrarlo. Perché è una cosa che secondo me, secondo noi in questo momento ha senso, è che l'artista rompa questa quarta parete e incontri, incontri il pubblico. Questa sarà una costante di tutti e cinque gli spettacoli. Sì, sì, sarà una costante forse anche più avanti, anche nelle altre iniziative, rompere questa quarta parete, far sentire l'umanità degli artisti, degli attori, dei cantanti che mettono tanto del proprio, non solo in termini di fatica, ma anche in termini di sogni, di umanità, di speranze. È bello perché l'artista, vogliamo fare dei personaggi, ma non sappiamo chi è. È bello questo rapporto con il pubblico. L'artista non è a due dimensioni. Non ha le dimensioni dei pollici di uno schermo. L'artista ha una profondità. Quindi, per favore, incontriamola questa profondità. Avete capito, Olga? Ho detto che... Ah, però... È la mia amica immaginaria che ogni tanto dice delle cose, ma non ho capito quello che ha detto, quindi non chiedete. No, meravigliosa questa... è vero, no? Cioè, si può parlare con gli artisti. E a volte rispondono pure. Grazie, però dobbiamo ricordare che questo è possibile perché Ivana Posti e la sua radio, Sognare si può, ha accettato di venire a presentare gli artisti con noi. È un onore, è un onore per me, un piacere immenso ed è bellissimo il fatto di poterci parlare. Ma non solo è possibile per me presentarli e io vi ringrazio, ma sarà possibile anche proprio per il pubblico parlare con loro. E questa è un'altra cosa che secondo me è molto importante e innovativa, perché probabilmente abbiamo bisogno di conoscerli, anche umanamente. Abbiamo bisogno di leggerezza, di rompere i pedestali, gli schemi. Io faccio l'attore, ma non per questo sono diverso da te, sono come te. Un po' sì, un po' sei diverso da lei. Ma lei è con faccia cattiva, è proprio cattiva, ma guarda te, porga. No, è sempre una amica immagina, scusate, scusate. Siete meravigliosi. Sono sempre battute. Allora, questo è solo un assaggio di cui noi potremmo godere in queste serate. Cosa vuole, le posso dire tutte? Ma certo che puoi dirle tutte. Allora, le dico velocemente tutte, così, tutte in un fiato. Se lo poi me ne dimentichi, no, sto scherzando. L'8 agosto, la grande, carinissima, dolcissima Vanessa Giuliani, anche lei cabarettista, lei è un'attrice a tutto tondo, perché forse molti di voi se la ricordano, è personaggio di Gemma di Cento Vetrine, per dire. Eh sì. Ha fatto anche tante altre cose. Con il suo spettacolo di cabaret, donne che si dannano, ecco. Donne che si dannano. Si dannano, è il Pellino, intrigante. Eh no? Allora, certo che sì. Poi c'è una pausa e riprendiamo il 5 settembre con un duo, insomma, molto interessante. Sara Sol e Gaetano Pellino con una serata blues, profondamente blues, con una voce. Io spero che voi l'abbiate già sentita in giro, perché è sempre presente nelle feste, nei locali torinesi e non solo. Ma se non l'avete sentita dovete venire per forza, perché è molto riccia e dentro i suoi ricci c'è una voce incredibile, molto molto blues. Gaetano Pellino poi è un maestro della chitarra blues e jazz. Vorrei dirti, scusa se ti interrompo, proprio su questo nome, che ci arriva da Sara Picco un saluto anche da Gaetano Pellino e Soul Sara. Ciao, ciao, ciao. E quindi mi faceva piacere interromperti sul più bello. Non vedo l'ora di rivedervi e risentirvi. Bene, un salutone grande. Ciao, ma a proposito di Ricci, Ricci, chi c'è dopo? E poi, e poi, e poi. E poi abbiamo il duo Volver, no? Volver. 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 No, Volver, o Volver, no, Volver. Volver, Volver. No, Volver. Scherzo naturalmente. Ci possiamo fare una puntata su sta cosa, eh? Esatto, andiamo avanti. Quanto andiamo avanti. Anche qui abbiamo Tatiana Arciuolo, voce, e Matteo Castellana, il pianoforte, in un programma, ascoltate se non è interessante, da Buenos Aires a New York, passando da Napoli. Wow. Tutto, tutto, tutto in chiave jazz, pianoforte, voce, ragazzi, non mancate, è un'atmosfera bellissima, sotto le stelle, a Trino, al Palazzo Paleologo. Mamma mia. Guarda, non è da, non si può perdere un appuntamento di questo genere. Ehi, è intrigante, no? Ma come avete scelto? Ma aspetta, 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 aspetta. Parliamo già della conclusione. E lo so, voleva fare una domanda in mano. No, no, allora, intanto finiamo gli appuntamenti. Finiamo la carrellata. No, no, non volevo interromperti. Sì, sì. Spero di non dimenticarmi che è quello che volevo chiedervi. Il 25 settembre chiudiamo questa prima edizione di Stasera che Sera a Trino con C'era una volta Ennio Morricone e il quartetto Venus String Quartet, che è un quartetto d'archi, tutto al femminile, due violini, una viola e un violoncello. Ragazzi, signori, signori, emozioni, emozioni a tutto spiano, emozioni grandissime. Ma io mi domando, e poi mi sa che siamo quasi in chiusura, ve lo giuro, è incredibile come meravigliosamente il tempo vola e la nostra mezz'ora se n'è andata, ma noi parliamo ancora un po', perché a noi ci piace. Ve lo dico, a noi ci piace. Ci piace. Ecco, no, volevo chiedervi, ma è come vi è venuto in mente di scegliere un programma così vario? Cioè... E che ne so io? Cioè, perché? Letto. Sto scherzando. Scusa. Bella domanda, Ivana, bella. Olga, rispondi. Beh, dunque, in realtà abbiamo fatto degli studi di settore e abbiamo, no, veramente, noi abbiamo messo insieme delle cose che secondo noi avessero un senso, perché a noi non piace solo dare spettacolo, a noi piace anche dire delle cose, farlo, assistere allo spettacolo, no? E quindi abbiamo cercato quale potesse essere un filo conduttore. L'abbiamo trovato sto filo conduttore poi, alla fine? No, no, il filo conduttore è stasera che sera. Esatto. Ecco, sono tutti interpreti validi, tutte proposte che nei loro vari generi sono da seguire, da scoprire e magari da questo nasceranno altri progetti. Ognuno ha un suo progetto che noi magari lo seguiamo. Adesso non voglio creare delle anticipazioni, ma infatti dico solo questo e poi mi fermo. Con Tatiana Arciuolo c'è un progetto molto interessante per la prossima stagione, per cui il rapporto che noi stavoliamo con gli artisti che incontriamo su questa nave, percorrendo la nave, cerchiamo di non essere... Noi non siamo un'agenzia di teatro, ecco, questo per dire. Non è che noi vendiamo spettacoli. Noi con i nostri artisti, perché percorriamo un piccolo percorso insieme, che magari questo piccolo percorso può diventare anche lungo, e proponiamo magari, rilanciamo con loro altre progettualità e facciamo salire su questa nave altri artisti, e ancora altri artisti, e ancora altri artisti. E ancora altri artisti. Mi piace questo entusiasmo. E sono tutti dei sognatori, eh, questi artisti. Ecco, questo può essere il filo conduttore. Bene, quindi mi avete trovata. Nel senso che io anche sono una sognatrice, vi seguo da questo punto di vista tantissimo, perché noi sognatori poi non ci fermiamo mai, no? Nonostante tutto, non abbiamo ancora finito una cosa che già ci portiamo avanti. Bravo, com'è vero. Com'è vero. Quello del regista, devo dire che appena finisco le prove di uno spettacolo che va in scena, la prima, io sto già pensando ad un altro. È così. Oh, meno male che non sono l'unica, perché delle volte uno si sente un po' strano, tra virgolette. Dici, com'è sto fatto? Devo far finta di... Di tutti i tuoi pensieri che hai. Quali pensieri? Che cosa ti fa pensare che io ne abbia in questo momento? Dal ciringo, quante idee ti eri fuori al giorno? Non lo so, non... perché dici questo? Non è vero che ti devo fermare, ti dice basta. Sì, sì, è vero, succede, ma non è colpa mia, sono loro che... Sono loro che escono fuori, questi pensieri incontrollabili. E così, poi forse, non so, succede qualcosa, uno si abitua magari, no? A sentirli, però... Vabbè, la gestione è difficile alle volte, no? Quale gestione? Dei pensieri. Cosa ti fa pensare che io... La gestione dei pensieri. Sì, ci si prova, dai. Ci si prova. Va bene, e adesso noi sognatori... Che facciamo? Che facciamo? Ci salutiamo. Poi ci salutiamo. Ci salutiamo. Proseguiamo. Andiamo avanti ancora un po'. No, no. Volentieri. Allora, però vorrei fare un piccolo riepilogo per i nostri ascoltatori. Grazie. E volevo dire... Delle cose strane mi arrivano. Io vedo delle cose in diretta, però mi scrivono cose tu, eh? Mi dicono che vedono la mia ascella. Io in mia diretta vedo noi che parliamo e ci muoviamo. Boh, speriamo in bene. Perché io ho degli spiriti cattivi, spiritelli, che mi fanno fare... Però voglio salutare Laura. Allora, ecco, adesso si vede il muro tra le due portrone. È fantastico. Scusa, ma è ferma. È ferma. E non capisco, non so dirvi, ragazzi, che vi devo dire. Allora, adesso... Forse è la mossa il ventilatore. Ma dici, dici. Girando potrebbe avere, no, urtato la gamba del... Va bene. E allora, diciamo così. Salviamo il salvabile. No, sto scherzando, ragazzi. Questa puntata sta succedendo di tutto. Intanto voglio salutare Laura, Laura Mosca. Ciao. Ciao, ciao. Che è alla quale faccio vedere cosa vedo io nella mia diretta, cioè ci vediamo noi. Ma scherzo, naturalmente, però io faccio anche il video del video, così... Ma è fatica. Ci rimane di tutto. Ma di tutto, Ivana Fogna. Ma è bellissimo. Bisognerebbe filmare lei. No, perché? No, perché io questa mattina con il nostro tecnico audio-video abbiamo fatto tutte le prove, mi ha messo tutto a posto, tutto che funzionava, e Facebook è caduto e ora mi dicono cose strane. E quindi cosa devo fare, ragazzi? Eh... Nulla. L'importante è che la trasmissione... Lo spettacolo deve continuare. Certo. Sempre. La nostra trasmissione va avanti. Va avanti. Voi siete meravigliosi. Oh, grazie. E siete stati... E lui non è truccato, eh. Tu ed Olga siete meravigliose, insomma. Ma perché tu sei senza trucco, guarda che... Eccoci. Non hai idea. Comunque, niente, vi aspettiamo al 31 luglio, che è il primo appuntamento. Sì, a Trino. Eh, certo che sì. A Trino. A Trino. A Trino. Prendete informazioni, ci trovate... Ecco, bravo. È vero? Che cosa do? Vabbè, guardate la locandina e trovate tutto. Quindi potete prenotare, adesso bisogna prenotare purtroppo, quindi non è che potete arrivare lì così belli. Dovete prenotare per telefono o per mail. Il teatro abitato, il teatro a gmail.com e il numero dei turisti allo sbaraglio. Ma chi se lo ricorda il numero dei turisti allo sbaraglio? Ma voi andate sulla pagina. Io non mi ricordo neanche il mio di numero. 3,4,7 inizia. Il mio? No. Dei turisti allo sbaraglio. E può essere. Senti, lo pubblichiamo. Ma certo che sì. Finisce con 2,66, però non so cosa ti sei messo. Non è che possono provare tutte le combinazioni, scusami. Se ci riuscite, infatti, chi vuole può fare la tessera del teatro abitato. Va bene. Insomma, vedete voi. Ma intanto trovano tutto, avete detto, sono carino. Però se vi va, venite, che secondo me è carino. Poi fate un po' voi. Ma certo che sì. Allora, voglio registrare. Ragazzi, non ci posso credere. Volevo salutarci. Salutiamoci. Ciao. Ciao. Meraviglia. E guardiamoci bene. Eh? Salutiamoci. Salutiamoci bene. Sì, ho già inizio. Oh, eccola qui. I saluti del teatro abitato. Di un pezzo, eh, del teatro abitato. Un pezzo, perché l'altro pezzo chissà se verrà poi a trovarci. Sì. Io mi auguro presto. Sì, 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 sicuramente. Eh? E allora... E mi raccomando... Ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente il 31 di luglio. Con Ivana Costi. Con me, che spero sicuramente di avere la miglior fortuna di oggi. Scherzo, scusate. In diretta da Trino. In diretta da Trino. Sì. E avremo la... Francesco Damiano. Francesco Damiano. Il teatro abitato. E... A Trino. A Trino. A Trino. 19.30. A loro non piace che si dica Trino Vercellese. Questa cosa mi è stata raccontata, l'ho scoperta in realtà... E Trino, Trino. Trino, l'ho scoperta da poco in realtà. Anch'io. Sì, sì. E... E allora noi rispettiamo. A Trino, il 31 di luglio, con... Ivana Posti e Francesco Damiano. Il teatro abitato. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Grazie.